Arriba frizzante, lo senti brillante, c'è tanta baldoria, vieni anche tu Arriva frizzante, ti fa compagnia, ovunque tu sia, su Radio Studio 5 Bene, ci siamo, la nostra piccola sigletta che va e che viene, questo non è il Chambretty Night ma è semplicemente frizzante Insieme con un po' di amici qua e là, io mi giro ma scusa, siamo rimasti in due maschetti, tutte donne Poco fa c'era il nostro direttore Franco Verderame che diceva, io vi dicevo, guarda ma ti giri intorno, ti giri intorno Questa è la portata di tutto il mio figlio, è giusto perché è stato il nostro PR di questa puntata Allora abbiamo in studio Mimì, eccola qua Buonasera, buonasera a tutti Mimì come la va, come la va, Lavazza o Kimbo? Non lo so, sinceramente Vabbè, anche te caffènate Te caffènate Io parlo con voi che state guardando la diretta e poi c'è anche un omino qua sotto che non riuscite a individuare perché sta dietro Vabbè, manco ve lo spiego Comunque, ciao, ciao a tutti, ciao belli Ragioneria, artistico Tu voi dove andate a scuola? Non ci andate E' tranquillo C'è il nostro Davido Olso, lo salutiamo sempre qua Allora, cosa ha combinato Stefano? C'era Stefano là con me No, no, non parliamo di Stefano, parliamo di cucina Ah già, direttamente dal gossip alla cucina? Sì, perché io ho fame e quindi parliamo di cucina Poi mangiamo il salame Mamma Sandra, grazie per il salame turco Splendido, salame turco ragazzi Salamino turco, turco, bello bellino Sarà buono Comunque uomini e donne, di quello si tratta Giulia D'Alevis Ecco, ha sparato il nome E Andrea Damante Uuu, un applauso Vai, desideri? Sì, quello che è venuta alla 14 Venuta alla 14 Voi siete andate là? Certo Ci mangiare Desideri sei andata là? No No, non è andata là Mamma di desideria Allora, noi ci aggiornamenti di gossip Dian, giusto? Sì, Dian con Bentarini Lei ha partecipato all'Isola dei Famosi E cosa ha fatto? Niente, è uscita la prima di tutti Ah, per me ci stava come la notizia La notizia era questa? Sì, era questa Ah, era questa Cioè, quante puntate ha fatto? Una Una, due, non lo so Una settimana Ah, una settimana Quindi questa è la notizia della settimana Perché è durata una settimana E quindi va bene Vestitino pure Il vestitino che ha fatto? Quando era abbastanza provocante E gli hanno combinato Si sono Si sono Si sono divertiti Musica Dico, se vi dico a voi Che ci è stata a guardare Che ci è stata a ascoltare Dico, se vi dico di Spasito Che vi viene in mente? Pasito, Pasito Che in Italia? Ecco, la canzone è quella Però in italiano Traduzione in italiano Ma di Spasito vuol dire Vuol dire Non lo sanno Ma noi ce la scocchiamo Non parliamo Lentamente 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 Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Su sette persone Una risposta Brava Luisa Brava Un applauso Luisa E' il suo paese Delle meraviglie Allora E' arrivato il momento Dell'oroscopo Perché è anche giusto Aggiornare E dare notizie Su quello che è Anche i nostri sentimenti I nostri sensi D'aria Di quello che è Insomma La vita Diciamo decidere Agli amici Che è Vecchino 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 Sì Vergine Vergine Tutti Ora si collegano Vedo Non è che diciamo Vergine Siamo tutti vergine Allora Qual è il problema Allora La nostra Simonetta Praticamente E' in fase In stato di Frizzante Ecco In stato frizzante Perché Ci deve dare Una notizia Che notizia ci deve dare Ci deve dare La notizia di Albano e Romina Questo po' di bello Che Albano e Romina Perché prima Quando erano accoppiati Facevano Facevano le foghe Nel momento in cui Ci sono scoppiati Poi Che lo fate i pinguini Lo fate nei bravi Davide vieni qua Davide vieni qua Il bello Il bello delle dirette Delle improvizzazioni Ragazzi Io mi metto Così Il poco più basso E faccio E ma grazie Lo so Mi sta bene Tutto Mi fanno fare Ernano Ernano Ma te ne rendete conto Ma te ne rendete conto Tutti insieme Il malo della mossa Della poca One, two, three Un saluto frizzante Della poca Grazie A tutti coloro Che hanno ascoltato E' veramente Un onore Grazie Un onore Grazie a tutti Veramente Un onore Grazie Un onore La prossima volta Dovete parlare Di dieta Di dieta La prossima volta Parleremo di dieta Perché Simona Si vuole mettere in dieta Lecce Allora Grazie ancora 19.47 E questa è la frizzante Al prossimo Al prossimo Al prossimo mercoledì Ciao 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 Grazie per la visione!